In breve La rassegna estiva Voci dei Luoghi, quest'anno alla sesta edizione, è promossa dal Consiglio regionale tramite il Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con Unce in Piemonte e Consiglio Provinciale di Torino, Comitato Provinciale Resistenza, Costituzione e Democrazia. I comuni montani che ospitano gli spettacoli delle quattro compagnie, Assemblea Teatro, Accademia dei Folli, Associazione Culturale Tecne e Compagnia 3001, sono 24 in 18 comunità montane a cui si aggiunge la città di Torino dove la rassegna ha preso il via nella sera del 6 luglio. È un grande successo che si ripete con grande partecipazione dei piccoli comuni che sono la forza della nostra regione, con comuni straordinari, lì dove si è svolta la resistenza. Quindi si parte da Torino e si percorrono tutte le otto province piemontesi in un momento leggero, quello delle vacanze, per non dimenticare una serata di riflessione con parole, musica, per ricordare la resistenza che è il fondamento della nostra Costituzione e della nostra democrazia.